Continuano gli acquisti su Mediaset dopo il blitz di Vivendi che dopo aver annunciato lunedì di avere il 3% del capitale ha già aumentato il pacchetto di 4 volte. La scalata della società francese ha scatenato un'ondata di acquisti sul titolo Mediaset, salito oltre il 30% in borsa. La risposta di Fininvest non si è fatta attendere, la holding ha acquistato azioni pari al 3,5% dell'intero capitale sociale, portando la partecipazione in Mediaset al 38,27%. Il gruppo di Vansambolo Re che già possiede il 23,9% di Telecom Italia si avvicina così all'obiettivo dichiarato del 20%. Intanto la società della famiglia Berlusconi ha presentato un esposto alla procura di Milano per contestare la manipolazione di mercato. La Consob ha avviato delle verifiche.